Scoop bombastico Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stanno insieme. Beatrice Luzzi, ex concorrente del Grande Fratello, ha fatto un annuncio che ha scosso il pubblico. Dopo essere uscita dalla casa del reality condotto da Alfonso Signorini, i fan hanno continuato a seguirla con passione. Recentemente, la protagonista del GF ha lanciato una frecciata a Massimiliano Varrese, che ha risposto con alcune frasi della sua nuova canzone, presumibilmente dedicate a lei. C'era la consapevolezza, sapeva benissimo quello che stava facendo, ha dichiarato Beatrice Luzzi su Massimiliano Varrese, io l'ho perdonato, perché so che è una parte di sé che è dentro di lui e che neanche riesce a controllare. Però, effettivamente, chi era intorno a lui non avrebbe dovuto perdonarlo. Varrese, nel suo ultimo singolo, canta, ti guardo negli occhi, i tuoi occhi da infame. Prima mi insulti e poi mi vuoi bene. Ma adesso c'è uno scoop ancora più sorprendente. La relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha tenuto banco per mesi. Dopo la fine della loro relazione all'interno della casa, i due si sono riavvicinati. Nelle ultime settimane sono stati visti insieme in diverse occasioni, alimentando i gossip con le loro uscite e foto. Una settimana fa, ai primi di luglio, l'esperta di gossip Dejanira Marzano ha ricevuto una segnalazione. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme a Roma termini alle 16 di oggi. Prima ancora, i due sono stati visti passeggiare per le vie della capitale. Durante una puntata di Gente di Marte su Radio Marte, la Marzano ha rivelato, sono fidanzati ufficialmente, hanno passato due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno trascorso una notte in hotel. Giuseppe Garibaldi aveva già reso chiari i suoi sentimenti, sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Beatrice Luzzi ha aggiunto, tra noi, come ho sempre detto, c'era un legame antico. Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone ed avere l'impressione di conoscerle da tante vite, quindi adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita alla vita moderna. Con queste parole, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno confermato ciò che i fan sospettavano da tempo, regalando al pubblico un momento di pura emozione e rinnovata speranza per il loro futuro insieme.